Proseguono le verifiche necessarie per stabilire se i frammenti di ossa venuti a gala da un pozzo profondo 15 metri alla periferia di Brindisi siano quelli dell'imprenditore Salvatore Cairo, scomparso il 6 maggio 2000. Cairo lavorava nel settore del commercio delle pentole. Sotto processo ci sono i fratelli Cosimo ed Enrico Morleo, il primo ritenuto il mandante e l'altro l'esecutore materiale, contestate le aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso. Gli esami eseguiti dai due periti nominati dalla corte d'assise di Brindisi, la genetista Giacomo Mondelli e il medico legale Liliana Innamorato sono relativi al confronto tra i profili del DNA del fratello e della sorella dell'imprenditore e quello ricavato da una trentina di frammenti tra i quali ci sono una teca cranica e il pezzo di un piede. I periti inoltre dovranno accertare anche se quelle ossa presentino tracce di combustione e di sezionamento con la motosega. Le conclusioni saranno illustrate il 16 aprile. I quesiti sono stati posti dai giudici tenuto conto delle richieste del PM, servono a riscontrare le dichiarazioni rese dall'imputato Enrico Morleo e a stabilire se siano meno veritiere. Morleo dopo aver respinto l'accusa di omicidio in una delle ultime udienze ha riferito alla corte di aver trovato il cadavere di Cairo all'interno della legnaia in cui lavorava all'epoca, di averlo fatto a pezzi usando una motosega a scoppio e di aver dato fuoco ai resti poi gettati in un pozzo e ha condotto i giudici e il PM davanti a quel pozzo dove i vigili del fuoco hanno portato a galla i frammenti consegnati ai periti. I consulenti hanno chiesto ai familiari di Cairo un documento di riconoscimento dell'imprenditore utile ai fini della comparazione per l'altezza ricavabile dai pezzi di ossa. Secondo l'accusa Cairo e Sergio Spada, l'altro imprenditore che lavorava nello stesso settore e trovato cadavere nella sua auto con un foro di pistola alla nuca l'11 novembre 2001, sarebbero stati uccisi perché diventati scomodi per le attività di cui avrebbe voluto occuparsi Cosimo Morleo.